Non ti cruciare per i vari fastidi che devi sopportare quotidianamente. Quando si invecchia si diventa meno tolleranti, ma se pensi seriamente che più i giorni passano e più ti avvicini al grande trapasso, allora le cose e le preoccupazioni si relativizzano. Pensa che devi lasciare proprio tutto, corpo terreno, vestiti, casa, oggetti, affetti, relazioni, abitudini, professione, attività eccetera, tutte cose che non ti interesseranno più perché sarai in una dimensione inimmaginabile per ora. È importante pensare serenamente e con realismo alla propria morte e disporci quotidianamente ad affrontarla nella pace del Signore. In Gesù Cristo incarnato, morto e risorto per te, riponi la tua speranza con fede ed amore e vedrai che potrai vivere ogni attimo in pienezza in modo molto più sereno nell'attesa della sua venuta.